La gestione sanitaria è importante per l'impatto a livello aziendale. Il primo impatto è sulla longevità. Molte vacche lasciano la mandria troppo presto. Ad esempio, in Europa, il 20% delle vacche da latte non completa per intero la prima lattazione. È da notare che la maggiore efficienza si raggiunge tra la settima o ottava lattazione. Quindi c'è molto interesse per le vacche più longeve. Per il 30% in meno di emissioni di metano. Il 50% in meno di animali giovani necessari per la rimonta e la migliore efficienza alimentare. Il secondo impatto è sulla resilienza. Oggi il 30% delle vacche da latte in azienda soffre di zoppia, mastiti, chetosi, ecc. Poiché tutte le malattie sono correlate, è importante un management che aumenti la resistenza alle malattie. Poi ci sono i costi. Si possono fare diverse stime sul costo della mastite, ma generalmente si parla di 225 euro per ciascun caso. La gran parte non è data da costi diretti, come quelli per il trattamento, ma da costi indiretti. Cioè il costo del latte scartato e i costi di produzione. Andrebbero considerate anche le interruzioni nel lavoro quotidiano. Si stima che il tempo necessario per gestire un singolo caso sia di 4 ore totali. Inoltre, la probabilità di guarigione a volte è molto bassa e non conviene investire, senza compromettere il benessere dell'animale. La consulenza deve avere una visione ampia per valutare tutti i parametri disponibili, seguendo l'approccio osserva-pensa-agisci. E infine chiedetevi chi ha il controllo. Il vostro atteggiamento è importante, ma lo è anche quello dell'allevatore. Sta puntando a ridurre la mastite nella sua azienda? Come reagisce di fronte a un improvviso aumento dei casi di mastite o delle cellule somatiche del latte di massa? Il 60% degli allevatori non chiama il veterinario quando hanno un focolaio di casi di mastite. La metà di loro sa che c'è un problema, ma non sa come risolverlo. L'altra metà non vede il problema e non pensa alla soluzione. Quindi c'è tutto lo spazio per progredire, ma in modo proattivo, più che cercare di risolvere i problemi quando si presentano e l'allevatore vi chiama. Occorre passare dalla medicina curativa a quella preventiva. Ci sono quattro punti importanti quando si fa consulenza sulla sanità della mammella. A. Bisogna sensibilizzare gli allevatori, soprattutto mettendoli a confronto con ciò che fanno gli altri. B. Si dovrebbero fornire o mettere in evidenza i vantaggi di una soluzione. C. I costi e gli sforzi necessari per implementare le raccomandazioni. D. Così come tenere presenti gli svantaggi e le esperienze negative. Quindi A più B dovrebbero superare C più D per poter concordare con l'allevatore la soluzione più redditizia. Ad esempio, è stato dimostrato che il post-dipping, noto come efficace misura preventiva, ha un beneficio netto pari a 0 euro perché la riduzione delle perdite è compensata da un aumento delle spese. Un altro esempio, mungere le vacche infette per ultime, ha un beneficio netto negativo poiché le spese aggiuntive superano ampiamente la riduzione delle perdite. Come scegliere le soluzioni più appropriate? Più informazioni avrete, più sarete specifici. Sul management, si punterà a diminuire il numero di nuove infezioni o la durata delle infezioni esistenti, se l'obiettivo è ridurre rapidamente la conta delle cellule somatiche. Le dinamiche dell'infezione vi aiuteranno a capire meglio l'insorgenza di nuove infezioni intramammarie e la percentuale di infezioni guarite. Servono dati sulla conta delle cellule somatiche e dati sulle mastiti cliniche. Anche l'origine delle infezioni è importante, durante l'asciutta o in lattazione. I risultati degli esami culturali aiuteranno a identificare i patogeni presenti in allevamento. Insieme alle dinamiche di infezione, contribuiranno a definire un modello epidemiologico da contagiosi oppure da ambientali. Tutto questo avrà un impatto sulle misure più efficaci da proporre agli allevatori. Ad esempio, evitare il sovraffollamento sarà una delle misure più efficaci in un modello da ambientali. Mentre mungere le vacche infette, per ultime, rimane efficace in un modello da contagiosi. È importante arrivare a un accordo con l'allevatore affinché sia disposto a implementare le misure proposte. Infine, per chiudere il cerchio, avere una visione ampia è fondamentale per fare una consulenza efficiente. Adottate un approccio olistico. Grazie a tutti! Grazie a tutti.